Tra alti e bassi continua la programmazione del grande fratello VIP 2018, l'edizione più deludente delle tre fino ad ora andate in onda su canale 5. Gli ascolti continuano a non convincere, faticando a raggiungere il 20% di share nella puntata del lunedì e fermandosi ben al di sotto nei due appuntamenti speciali del giovedì sera. In molti si erano chiesti quale senso avesse, considerato lo scarso interesse verso il programma, raddoppiare la sua programmazione in prima serata soprattutto considerando il ricco palinsesto del giovedì. Le scorse settimane, infatti, il reality ha dovuto fare i conti con fiction e trasmissioni molto amate dagli italiani e a pagarne le conseguenze sono stati i già deludenti dati auditelli. News grande fratello VIP sospesa la puntata del 15 novembre e le due puntate del grande fratello VIP del giovedì non hanno brillato dal punto di vista degli ascolti anche a causa della rivalità con programmi tra i quali Alliella 2, Pechino Express e X Factor. Che ne sarà, quindi, dell'appuntamento del 15 novembre? Esso verrà confermato? Mediaset ha preso la sua decisione, dettata anche da altri impegni presi in precedenza. Punto secondo quanto riporta la guida TV di Canale 5, il grande fratello VIP 2018 non andrà in onda il prossimo giovedì. La scelta di Mediaset non sarà però la conseguenza dei dati auditelli deludenti delle precedenti puntate speciali. Al suo posto, infatti, verrà trasmessa la partita della UEFA Nations League tra Croazia e Spagna, facente parte del nuovo torneo che il Biscione ha in programmazione già da qualche mese. Quella del reality show non dovrà essere vista come una bocciatura, tanto che sembra certo il suo ritorno anche nel palinsesto del giovedì a partire dal 22 novembre. La prossima puntata del formato condotto da Ilari Blasi e Alfonso Signorini resta fissata per lunedì 19, sempre in prima serata e durante tale appuntamento conosceremo il nome del prossimo eliminato. In nomination si trovano altri due concorrenti, video, gli ultimi, non appartenenti al gruppo dei giovani si tratta di Ivan Cattaneo e Lori Del Santo, che dovranno fare i conti con il giudizio del pubblico dopo gli addi di Ella Weber e Alessandro Cecchi Paone. Undicesima puntata Grande Fratello VIP Confronti e Chiarimenti manca ancora qualche giorno all'undicesima puntata del Grande Fratello VIP che Canale 5 trasmetterà lunedì 19 novembre in prima serata. In attesa di scoprire se la produzione procederà per una doppia eliminazione, come già accaduto qualche giorno fa, gli spunti da trattare nel corso della diretta certo non mancano. Essi riguarderanno le novità della relazione tra Giulia Salemi e Francesco Monte, con il duro vitigio di cui la coppia si è resa protagonista, ma anche di Benedetta Mazza e Stefano Sala, con il sospetto in merito ai primi momenti di passione che i due concorrenti potrebbero avere vissuto. Ma ciò che i telespettatori attendono è un chiarimento su alcune dichiarazioni fatte fuori dalla casa e relative a Francesco Monte. Oltre ad essere ancora criticatissimo per le sue affermazioni, video virgola sul bacio scambiato tra Martina Andy e Giulia, l'ex tronista continua ad essere definito un personaggio protetto da Mediaset e trattato al pari di Giulia provvedì in maniera diversa rispetto ad altri compagni di avventura. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS